No, allora i fazzionetti di carta non servono per masturbarci Questo lo mettiamo in chiaro Assolutamente Bene ragazzi bentornati con il mio... Mi prude il piede come le pastie Dunque ragazzi oggi siamo qui con La rischia il gusto challenge Che è una sfida che sta andando molto in questo periodo E che mi avete chiesto di fare sotto la Whisper Quindi chiaramente vi abbiamo accontentato No, ma no, Youtube USA Tra l'altro Tra l'altro Cioè, capito? Quindi noi siamo qui di nuovo con Tiger Shark Di cui trovate il link qui sotto in descrizione Noi chiaramente andiamo un attimo a ripassare il regolamento Nel senso che ne mangeremo una testa Intanto apri Ci sono dei vari colori Noi dobbiamo mangiare appunto questi colori Per esempio la caramella rossa potrebbe essere... Eccolo qua il regolamento Eccolo La caramella rossa potrebbe essere o fragola o ascella puzzolente Oh senti che puzza E' la madonna Quindi ragazzi comunque sappiate come funziona, no? Ma cazzo si ha questo? Madonna guarda gli zuccheri Mi sono caduti Sti cazzi di zuccheri Pensa che schifo Allora Cominciai a grattare? Comincia tu a grattare Ah perché mi puro il piede? Ah sapete Gratta totalmente random Vai Hai scelto? Cosa è quella? Calcini sporchi o mora? Calcini sporchi o mora che sarebbe questa No? Questa facciamola vedere bene Questa Questa blu Quindi Adesso al 3 Cin cin Noi assaggeremo 3 2 1 Mora Io non mi ricordo com'è la mora Però mi dà che è mora Spero perché calcini sporchi Non lo so Calcini sporchi Io Dopo che l'ho angolietto S'arriva del bus Ne avevo già assaggiate alcune Vai su Ma non avevo mai trovato calcini sporchi Ragazzi Non è esattamente buonissima Vai su Dobbiamo dividere il mio in due E quindi Che schifo Ecco Sapevo che finia così No Ascella puzzolente o fragola Ascella puzzolente o fragola Forse la Io prendo questa Questa è una delle peggiori Cin cin Ti prego Non due schifose di fila Porca merda Non capisco E allora è fragola La mia era in sapore È fragola Sì Se non lo sento è fragola Ma io lo so di che sta la fragola Però La mia è di merda La mia è di merda Ah ok Allora Non ci sa Io quello l'ho preso Ho preso fragola Quindi chiamo una zero per me Come si contano i punti? Eh stanno qua Ah Quindi? Minchiera mora No bucio di culo Vabbè ma non si può contare il punto Perché pure Minchiera mora Avrei voluto trovarla io no? Minchiera mora La mia era bionda Che cazzo Vabbè Ah chiaramente non l'abbiamo detto Noi Ci sono i punti qua Quindi chiaramente Qua Vedete Quindi chiaramente Calzini sporchi Che abbiamo preso due volte Noi vabbè Tanto abbiamo Presi male Insomma quelle buone Sono meno punti Quelle schifose Sono più punti 5 a 2 12 a 7 12 a 7 No ancora Ma che cazzo Non ci credo Fragola o calzini sporchi Ma ma perché sono dispari? Non lo so La prossima la prendi te singola Sempre lei Signore fa che esisti Esisti A me prima è andata bene Quindi adesso mi devi Mela cammare per forza Porco due Che schifo Regà Che schifo Che schifo Oltretutto stiamo in cucina Fragola Mucio di culo Cosa cacca la viscina o mela Oh merda Perché sono dispari? Perché sei un deficiente E hai preso pochi pacchi No che schifo No io la cambio Non me ne prega niente Comunque questa Ti prego cacca la viscina La faccia Esistemente cagare Com'è? Sembra buona È buona? È buona Una quindi si può fa Frutti di No 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 Frutti di bosco Frutti di Ah è diversa Perché metto i colori uguali? Uno ci No? Come zero punti Frutti di bosco Tre Buono Buono come il pane No no io non so Quale prendere Buono come il pane Sono quattro Tre due uno Vaffanculo È questa Più scura È quella Fucsia Questa Vedi? A te l'onore Non sa di niente L'odore Io ci provo sempre Semmai è buggata Non si sa Vedi che sta Frutti di bosco? Di buono Cioè di merda Vuol dire gherba Godo Frutti di bosco Eh sì eh Parca puttana Dai eh Io rimango a 16 Tu? Frutti di bosco L'ho fatto piano corto Ho detto Ma sbagliato Cioè La face fatta Ho detto Oh porco Posso sentire subito Arancia O è arancia Ok O è arancia Buono Buono Quindi stiamo 20 E tu 23 L'ho già vinto Però la finiamo A parte che volendo Possiamo Spettare Tutto l'altro perché Queste sono attaccate No no io non le stacco Perché fanno schifo Prende una singola Questa Sarà quella della vittoria ragazzi No regà No 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 regà No Ci amo l'ospite Benedetto sedicesimo Ho detto Con una Colonna sonora Importante Me l'ha chiesto Come favore personale Ma allo stesso tempo È una colonna sonora Un po' difficile Allora te la canto Fa più o meno così Alleluia 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 Provo Alleluia 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 Perfetto Perfetto Ma la cosa ragazzi Che mi ha lasciato più Meravigliato È che sei ricordato Tutte le parole Incredibile Comunque adesso Provo a cantarla Ragazzi mi raccomando Provateci anche voi Perché è difficilissima È difficilissima Magari provate a vedere questo video Così vi aiuterà Adesso però La Benedetto sedicesimo Quindi tu Devi un attimo No Cantarla Ah ok Vai Sei pronto Alleluia 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 Oci Tutti come vengono così Voglio Rivolgermi Soprattutto Ai ciovani Ai più Giovani Voglio Invitarvi A non pensare Troppo al sesso Perché il sesso È sinonimo Di male E per Appattere Il male Bisogna Innalzare Il pene Ascoltaci Ho il pene Ho il cazzo duro Bene Visto che a TigerShort Sono di salire tutte le caramelle A me ancora no Ma probabilmente Mi ritaglieranno questa notte Quando dovremo dormire assieme Speriamo che non ti riescano dal culo Eh questa è una parentesi interessante No l'ho toccata Per questa cosa vi invito a lasciare 50 like in più Perché comunque Ho visto che vi è piaciuta la Whisper Vi è piaciuta anche la sfida con T-Rex E ovviamente consigliateci altre sfide da fare Certo Questo poco mi assicuro Quindi ragazzi io vi invito anche a passare dal suo canale Che troverete qui sotto in descrizione Cliccando sulla sua felpa Che poi non è una felpa Ma è una giacca O una camicia È una camicia Fatta male Quindi cliccate sulla sua mano Ok Mano sporca 5 secondi per le caramelle 5 4 3 2 1 1 È stato epico Quindi Noi ci vediamo con i prossimi video Non so quando uscirà questo Quindi non so dirvi con certezza Quando usciranno gli altri Ma comunque Bene Bye la